ragazzi il mio caffè vale 100 euro quindi chi vuole due caffè una sola battuta una sola battuta ci siamo fatti la giornata 100 euro guarda questo centrale ci sono tanti ricordi ragazzi ho fatto due stalle imparista ci siamo hai appunto più gusto allora ho visto che 100 euro non l'ho aperta nessuno un po' d'acqua cassata mi siete perso un caffè adrenalinico mi pensano che io sniffo questi caffè grazie vale grazie a tutti grazie a coined